Riproviamoci per l'ennesima volta, porca p***a Allora Ok, di nuovo lei Adesso non mi suonerà il telefono, sicuro E invece... Stavolta ha suonato, vediamo Hello? Akari? Listen Cosa devo fare lì? Perché si... Mi taglia la testa Ma sono su due realtà alterate Ma ecco la cosa qual'è C'è qualcuno che sta giochicchiando con noi Con questa cosa Cioè sono su... Sono su due periodi temporali diversi Può essere Do they have a clock in the room? Ha cambiato il ticket io Ma scusate non ci credo Eh, qui è un'altra roba And four Just let it be morning Ok Perché... E infatti La scritta è al contrario Quella che siamo nella reverse Cioè nell'altro mondo da lei Anche lui mi ha lasciato l'orso C'è qualcuno che ci sta pigliando per il culo Ragazzi Lo so Films almost alive Infatti sarà vivo Il lupo Il caminetto Il caminetto Ehi Allora Lo so che Questo Lo so che oggi è il nostro anniversario Ok Ma non posso certamente andare In ogni posto in cui io voglia Perché non puoi capirlo? Ehm Non riesco Non me la bevo Una roba del genere Intendo dire Non mi... Non mi sembra mancato Non mi è mai mancata la cosa Quindi non sono Non... Non... Non sono Pentito Ok E questo non è una cosa felice Cioè è una bella cosa Questa è una cosa E' una 17 quadra I know Andiamo avanti Cazzo di orso qua Perché sono smozza live Ok Ehm Rare these days Ok Qui cosa c'è? Niente Questi devono essere i regali Forse che lei l'aveva preso per lui No ma ragazzi ma è un delirio Cos'è? Smartphone Smartphone Non lo uso più Ehm Ok Ok Questo devo uscire Approaching footster Di nuovo mi ha fatto ricominciare I know I know Se esco Ah vedi Anche di quale orsetto vuole che io resti qui E invece me ne vado Va bene Eccolo lì Eccolo lì Che anche lì qua Si è staccata la testa Can't stand this room Anche lei Si sono andata a finire da lei Questo uccide sia lui che lei Bello Eccolo lì Eccolo lì Eccolo lì Eccolo lì Allora la chiamata che ricevuta è arrivata da te vero? Non è abbastanza di oggi ok Per oggi ok Non ci sta Non ci fa di certo bene Nessuna risposta Perché lei ovviamente non lo sente Perché lui è andato dall'altra parte Un ending Quindi Wait C'è scritto lì Ancora Anche Cato Troia Ok Eh Guarda la che appare ogni tanto il tipo Dimmi Kazuki Cosa vuoi da me? Il libro Anche da lei Nel agosto Stessa roba Ad Akari Ok In due giorni Saranno sei anni Dal primo appuntamento con Akari Prima era Kazuki Eh Sakari I should trade her Allora Presumo di Dove Che dovrei Offrirle Una speciale cibo Scommetto che le piacere Scommetto che le piacerà Akari ha detto che avrà un importante viaggio di lavoro domani Che vergogna Che vergogna Avevo 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 regale e tutto il resto Eh Oggi Sono sei anni con Akari Quindi Un undici agosto Eh So che il lavoro è duro Per So che il lavoro è duro anche per lei Anche per te Eh Mi scuso Per quello che ho detto al telefono L'altro ieri Ieri Ok Puntini 25 agosto Anche qua Akari Ha chiamato E ha detto che sarà Sarà Di ritorno domani Sembrava un'eternità Ha passato un sacco di tempo È passato un sacco di tempo Eh Dovrei incontrarla all'aeroporto Quindi questo è lui che parla di lei Ok È lui che parla di lei Sì E Le scritte Finiscono qui Scusami Kazuki Scusami Ragazzi Ma che cos'è Ma che cos'è Cazzo sta succedendo Sweetheart's diary Anche qua Wait for me C'è scritto Ok Ok Cosa vuoi fare Di me Kazuki Puntini Puntini Lettera Ok Vediamo la faccia Il rumore che rompe un po' Me la fai leggere I can't see you tomorrow Ok Vengo a trovarti domani 15 Notice I'm coming Ok sto arrivando Sì Vediamo un po' se anche qua si attiva il notiziario No La televisione No Non si attiva Ok Vediamo aprire la porta Arriva lui Giusto Ok Stop Kazuki Fermati Kazuki Akari Sei tu Akari Sei tu Akari 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 Hold out your hand Come qui Vieni Vieni Veroce Vieni Sbrigati Kazuki Dove sei Why must you refuse E sei fuori Non ho fatto niente io Masteria Apro quella Dai Vediamo un posto Giro Allora Fermati Kazuki Akari Sei tu Akari Questo è il problema Eccolo Akari Tira fuori le mani Fai qualcosa Vieni Veloce Non ho capito Quel cosetto Lì che appare C'è il lucchetto Qualcosa Lì in alto Nella finestra Dove c'è la finestra Che cos'è Ok Kazuki Where are you Ma mi ritaglia la testa Ancora Dove c'è la finestra Why must you refuse Dove fare qualcosa Non li devo aprire Sicuro Ok Devo fare qualcosa sicuramente ecco la 2 flowers c'è il letto, c'è questo e ne vado, attraverso le candele e approccia in futsal di nuovo eh devo aprire per forza la porta just let it be morning ok ora non mi busta la porta perfetto ma non mi busta la porta le cartelle sono sotto ma tu mi devi guardare quello che c'è sopra eh ho capito il terzo posto che si riuscita questi giorni ok eh ho visto che io che ho la testa tagliata eh ragazzi questa è la notizia della giornata ieri mattina un uomo è stato investito in un camion gravemente ferito e è morto questa mattina bene stessa roba è di là last month's news ok le notizie dell'ultimo mese ok ok li apriamo questa volta proviamo proviamo fermati kazuki ok ok ah ok ok potevo camminare potevo camminare porca miseria aspetta un attimo apri dai ok non c'è ragazzi si ok cari dai ti ho cari si ok kazuki va via va via mi taglia la testa perci in footsteps stessa roba di nuovo adesso devo andare verso il telefono verso il cell vediamo ma che palle però si brilla si sono io ok ok ah cari hold out your hand come quick ok kazuki where are you lo puoi vedere kazuki è smolla lì va via va via no non posso uscire riprende mi fa fuori come faccio non non succede niente qui grab my hand is that is it really really i said hurry si another lover hello hello ce l'ho fatta è qui è è Ciao! Ciao! Chi è questo? Rote le palle. A cari? Ah, ma è ricominciato. Ah, I'm coming to see you. Devo andare anch'io al camino. E' di nuovo. Check the room. A cari? That's scream. Akari? Akari, is that you, Akari? Akari. Metti fuori la tua mano. Kazuki, sei tu? Veramente? Si, ok. Muoviti. Dai. Butta fuori la mano. Ok. Kazuki. Andiamocene da qui. Ma no, non ci credo. Ma no, non ci credo. che non dovrebbe esistere. Che non dovrebbe esistere. E la ragazza che ho ora... Di fianco a me... Che ho acquisto in fondo adesso. Che ho acquisto in fondo adesso. E' veramente Akari. Questa domanda non sembra avere importanza. che non ci credo. Non ci credo i tuoi spettri. Ma sono quelli veri. Carino. Molto carino. Molto carino. Bello. Bellino. 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 Mi è piaciuto. True and mirrored lovers. La vera fine. I wish for your happiness. See you. Bene ragazzi abbiamo finito anche questo... questo... mini gioco. Cioè comunque è stato abbastanza carino. Non era male. abbastanza interessante come trama. Un po' incasegnata all'inizio. Però si è capito che erano... che erano due realtà diverse. E poi... ti lascio alla fine il dubbio che... quelli che sono usciti da lì dai cammini... sono loro veramente? O loro sono veramente morti? E sono i due spettri che sono rimasti in casa? Non lo sapremo mai? Non lo sapremo. Comunque ciao ragazzi. Ci vediamo al prossimo gioco che... sto cercando. E vedrà un po' di fare qualcosa di... diverso da questo. Ciao a tutti.